Restano critiche le condizioni di Ciro Esposito. Il supporter del Napoli è rimasto gravemente ferito a Ponte Milvio durante gli scontri che hanno preceduto la finale di Coppa Italia con la Fiorentina. Esposito è stato sottoposto ieri al gemelli ad un'altra operazione al polmone. A renderlo noto un comunicato del professor Massimo Antonelli, direttore del centro di rianimazione del Policlinico Universitario. Dopo la pregressa all'obectomia superiore destra e l'intervento eseguito martedì, Ciro Esposito è stato ieri sottoposto ad un'ulteriore revisione chirurgica. Il trentenne tifoso partenopeo è ricoverato dal 3 maggio scorso in terapia intensiva dove viene costantemente trattato con dialisi, supporto ventilatorio parziale e nutrizione artificiale. Del suo tentato omicidio e di rissa deve rispondere Daniele De Santis, l'ultra della Roma meglio conosciuto come Gastone, dalla cui arma una berretta 7,65 con matricola a brasa, sarebbe partito il colpo che lo ha ferito al torace. De Santis ha sempre negato la circostanza, gli esami della scientifica però hanno rilevato sulla sua mano due particelle su tre compatibili con il colpo d'arma da fuoco.